Sono con il signor Saro dell'azienda SG Meccanica, buonasera e benvenuto qui al party di Infospettacoli. Allora, di che cosa si occupa la sua azienda? La nostra è una piccola realtà, praticamente nel comune di San Gimignano, provincia di Siena, dove praticamente progettiamo e realizziamo contenitori per rifiuti, diciamo speciali, cioè, che vuol dire, oltre che a realizzare contenitori speciali per rifiuti tecnici o pericolosi, andiamo anche alle stili delle vere e proprie aree di stoccaggio che servono alle aziende per dividere i rifiuti, quelli che possono essere legno, ferro, metallo, alluminio, plastica o vetro. Non so se ho chiesto di dove è l'azienda, di dove siete? Siamo appunto, come ho detto prima, siamo a San Gimignano, provincia di Siena, lì abbiamo sia lo stabilimento, attualmente in ampliamento, i nostri uffici e siamo sempre a disposizione. Abbiamo un buon sito internet, stiamo lavorando ora alle commerce, quindi sarà possibile anche, volendo, il cliente potrà acquistare tranquillamente tramite il web, senza neanche contattarci. Come nasce questa collaborazione anche con Infospettacoli? Loro li ho conosciuti tre o quattro anni fa perché avevo voglia di fare un po' di pubblicità, anche diciamo proprio a livello regionale, perché fondamentalmente il 90% delle vendite è quasi tutto fuori Toscana. Avevo voglia proprio di cercare di ampliare il mercato quello più toscano, più regionale, e ho deciso di fare una pubblicità con loro, sulla loro rivista, oltre a fare anche altri sistemi di marketing, insomma, con altre, diciamo, un'altra azienda. Ecco, hanno fatto una buona pubblicità, che è molto molto bella, secondo me hanno realizzato tutto loro, quindi sono rimasto molto contento. E questo lo troviamo qui a Report, a rivista Report. Grazie mille, ma ci mancherebbe. Grazie a voi, buona serata.